A prodo in Parlamento la questione Valsugana con un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti presentata dall'Onorevole del Movimento 5 Stelle Federico Odinca. Alla luce della situazione disastrosa di una delle arterie più trafficate, l'SS 47, viene presentata la richiesta di interventi urgenti di messa in sicurezza stradale, con periodiche manutenzioni del manto, oltre che a risolvere le criticità localizzate nel comune di San Nazario, nel centro di Carpanè e nella zona Merlo. E intanto sul progetto Nuova Valsugana, già rigettato dalla stessa Unione Montana, dai sindaci e dai cittadini riuniti in comitati contrari al progetto, interviene il capogruppo dei pentastellati in regione, Jacopo Berti. Noi siamo per un potenziamento ferroviario di tutta la zona e ovviamente anche di tutto il Veneto, una metropolitana di superficie di cui ha bisogno tutto il Veneto e quindi anche un'espansione, per esempio nella Valsugana sarebbe importantissimo per dare quello sbocco e quelle necessità per arrivare verso le necessità del territorio. Insomma, anche il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, appoggia in pieno la posizione del governatore del Veneto, Luca Zaia.